secondo la tradizione dal 753 avanti cristo anno della fondazione della città al 509 anno del passaggio dalla monarchia alla res pubblica sette re avrebbero governato roma a ciascuno di questi i romani attribuivano la creazione di riti istituzioni religiose norme e leggi che essi ritenevano alla base della loro civiltà a romolo i romani attribuirono l'organizzazione politica e religiosa della città vediamola nel dettaglio il re era la massima autorità dello stato egli deteneva l'imperium cioè il potere politico e militare ed esercitava quello giudiziario e religioso egli era infatti al contempo comandante dell'esercito e sommo sacerdote era considerato cioè un tramite tra gli dèi e la comunità la caratteristica principale della monarchia romana era quella di essere elettiva l'elezione spettava infatti all'assemblea dei rappresentanti delle famiglie più in vista in origine il re era affiancato nelle sue funzioni da un consiglio di anziani composto dai capi delle famiglie più nobili e ricche i patres questi uomini rappresentavano il nucleo di quello che poi sarebbe stato il senato istituito secondo la tradizione da romolo sempre a romolo viene attribuita la suddivisione dei cittadini di roma in tre tribù e in trenta curie dieci per ogni tribù in caso di guerra ciascuna curia forniva dieci cavalieri e cento fanti ovvero una centuria quando si riunivano le curie formavano i cosiddetti comizi curiati ovvero l'assemblea delle curie essa aveva una funzione solo consultiva